Siamo nel salone da ballo, la sala più ampia del palazzo e la vediamo secondo l'allestimento ottocentesco, voluto dai Savoia negli anni 40 dell'Ottocento, quando si trasformò quella che per i Durazzo, gli antichi proprietari del palazzo, era una grande anticamera che dava accesso agli appartamenti del Gran Piano Nobile. I Savoia, usando tre grandi maestri dell'Accademia Ligustica, riecheggiarono la decorazione della sala da ballo del Palazzo Reale di Torino. Lavorarono sulla volta Giuseppe Isola, nella grande tempera centrale. Michele Canzio invece è l'autore di questa decorazione eclettica, classicheggiante, a monocromo sulla gran parte della volta, mentre gli stucchi delle pareti, con queste ninfe danzanti, sono di quello che è probabilmente lo scultore più importante dell'Ottocento Ligure, Santo Varni. Fu una grande realizzazione avvenuta in tempi molto brevi, si voleva che tutto fosse pronto per le celebrazioni del matrimonio tra Vittorio Emanuele, il futuro primo re d'Italia, e Maria Adelaide ad Asburgo. Non va dimenticato il grande pavimento in legni interziati, disegnato da Harry Peters, un ebanista inglese molto celebre qui a Genova, autore di mobili sia per la Casa Reale ma sia per la buona borghesia genovese. Come dicevo questa sala preesisteva all'allestimento Sabaudo, era per i Durazzo una grande anticamera che presentava agli ospiti i ritratti dei grandi personaggi della famiglia. Cardinali, ambasciatori, trovavano spazio soprattutto sopra le porte con ritratti a figura intera. Tutto questo fu rimosso, trasformato dai Savoia che avevano esigenza di ospitare danze, celebrazioni, non solo come ho detto in occasione di matrimoni, ma anche per celebrazioni locali le più varie. Manca un elemento che fu demolito probabilmente prima della Seconda Guerra Mondiale. Sulla facciata a ovest esisteva una tribuna che poggiava su delle colonne di bronzo, alla quale si poteva accedere da quel loculo tondo che è una vera e propria porta. I musicisti accedevano da lì e prendevano posto su questa terrazza dove appunto potevano accompagnare con la loro musica, le danze. Ecco, anche per il Durazzo, anche per il Savoia, il luogo dava accesso al resto degli appartamenti di cui, come si vede molto bene anche oggi, queste porte mettono in comunicazione con il resto dei saloni del Gran Piano Nobile. E adesso seguitemi perché li andiamo a visitare. Grazie.